30 secondi alla fine primo quarto, Binzago 20, via Sessono 12, quantissimi falli fino adesso, sta durando un'eternità questo primo quarto, sarà monata a tre, ooooh! Tabellas! Allo scadere, ancora! Tre punti, grandissimo finale per Binzago, doppia, tripla tabellata, 26 a 12, scatenate! Siamo nel secondo quarto, 40 a 16, grandissimo Binzago che ora segna un altro libero e va più, 25! Altra tripla per Binzago, per Giassono, bel canestro! Tre di due libri per Sara Mornata, segna, brava Sara! Bella palla per Silvia Maffi che si fa largo, molta potenza a rimbalzo e va a segnare Giulia Biasoni, 1 contro 1, va dentro, Giulia segna, su dice pallo, andrà a metter col tiro libero a supplementare, Federica Pagani, difficile però rimbalzo, Sara Mornata che deposita! Giassono, il secondo è la nuova di Ian Frida, fritta per Giassono, Giulia non è meta, ancora un tiro libero per Giulia Biasoni, e va a segnare il secondo, e ora recupera la palla, c'è contropiede, e Giulia mette altri due, al segno ancora, la palla è uscita, e segna, ancora Saffaroni, 2 minuti e 40, altri due per Giulia, alla rubata, contropiede, e altri due per Giulia, e la vittoria per Binzago, 84-52 su Biasoni, bella partita, anche se è durata due ore, i tanti favi, qui a Palaghezzi di Binzago, un'unica palla, unaманura di Biasoni, un'unica palla di Biasoni, è un'unica palla di di Biasoni che non ha iniziato, e dovuta non ha cominciare il corpo che fa insieme,